Vibi Internet al sicuro è sicuramente una iniziativa particolarmente importante perché è tesa a stimolare sia il mondo dell'imprenditoria che i cittadini e gli utenti che utilizzano la rete ogni giorno. È cambiato radicalmente il concetto di consumatore in rete, non è più colui che compra un bene o un servizio ma colui che utilizza semplicemente una pagina internet, un esempio classico può essere una ricerca di preventivi. Quello che noi diamo non è più danaro per comprare un determinato prodotto ma sono i nostri dati. I nostri dati quindi rappresentano i nuovi soldi del futuro, sono quelli attraverso i quali si gestiranno tantissime nuove attività e stiamo di fronte a un cambio generazionale che rapidamente sta evolvendo. In questo senso la normativa deve adeguarsi nel rispetto sia dei consumatori ma anche delle imprese che stanno trasformando la nostra società e il nostro modo di fare imprese soprattutto a livello giovanile grazie alle startup innovative e in Italia sicuramente il fenomeno è estremamente rilevante. In questo senso informare cittadini e imprese su quelli che sono i limiti e quelli che sono i rischi della rete è assolutamente fondamentale senza né da una parte criminalizzare la rete perché è un elemento che ci aiuta e rende anche democratico il nostro paese né andare dall'altra parte e quindi trovarci di fronte a una situazione nella quale i nostri dati vengono gestiti senza controllo e senza sapere dove vanno a finire.